Grazie a tutti il panico in città urla vampiri scheletri insomma avrete capito che si tratta di una lezione sul genere horror pronti l'horror è una tipologia testuale in cui si succedono eventi misteriosi inquietanti spaventosi e soprannaturali poiché lo scopo appunto del racconto è quello di suscitare sentimenti di paura tensione orrore infatti di solito l'ambientazione è in luoghi lugubri isolati poco illuminati come ad esempio castelli diroccati cimiteri cantine i momenti di maggior tensione si svolgono quando ci sono situazioni meteorologiche avverse quindi nebbia temporali vento o di notte i protagonisti del genere horror sono di solito persone qualsiasi che si trovano però a vivere esperienze misteriose inspiegabili e terrificanti spesso altri personaggi che troviamo sono invece creature diaboliche soprannaturali esseri mostruosi o persone malvagie i tempi della della narrazione sono dilatati quando si vuole creare suspense o suspense che è uno stato di tensione emotiva provocato dall'incertezza cioè dal fatto che non sappiamo che cosa accadrà ma tutto fa presagire che non accadrà nulla di buono invece abbiamo dei ritmi concitati quindi molto veloci nei momenti di azione e violenza e per quanto riguarda il linguaggio possiamo rilevare soprattutto la descrizione analitica di luoghi personaggi o particolari che suscitano ansia inquietudine e paura la struttura di solito è questa abbiamo un prologo in cui si presenta una situazione di normalità poi un esordio quando iniziano a delinearsi alcuni elementi misteriosi inquietanti spesso inspiegabili da un punto di vista razionale uno sviluppo con un susseguirsi di eventi spaventosi e man mano anche terribili terrificanti e infine una conclusione a sorpresa in cui accade qualcosa appunto che non ci si aspetta e spesso il mistero o una parte del mistero rimane irrisolta elemento importante in questo genere letterario è la suspense o suspense quindi quello stato di apprensione, di ansia, quel desiderio di capire come va a finire una situazione che si delinea particolarmente grave e drammatica come si crea, quali sono le tecniche? in particolare con la descrizione particolareggiata di elementi inquietanti e spaventosi utilizzando i cinque sensi ad esempio l'udito quindi descrivendo in particolare strani rumori, cigoli, lamenti, sussurri e inoltre i puntini di sospensione l'utilizzo dei puntini di sospensione e poi la suspense viene creata ritardando la scena di violenza che invece il lettore crede imminente che quindi si aspetta da un momento all'altro per questo si trova in uno stato di agitazione detto ciò dobbiamo ricordare che si tratta di un genere particolare che può piacere o non piacere come tanti generi e comunque i libri vanno scelti in base all'età anche quelli di paura e alla sensibilità personale perché leggere deve essere certamente un piacere grazie